Ciao belli del zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a tantissime vicende macabre e disturbanti su web. Siti come Reddit, Telegram, ma anche semplicemente Facebook. Ogni anno portano alla luce crimini e scandali che quasi si fatica a credere che siano avvenuti realmente. In questo mondo malato che è il web però, un sito in particolare ha ospitato e ospita tuttora i peggiori individui in assoluto. Si potrebbe quasi paragonare ad un dark web accessibile a tutti. Che cosa ha portato 4chan ad essere quello per cui è conosciuto ora? Mettetevi comodi e smettete di mangiare se state mangiando, perché le storie che sto per raccontarvi potrebbero farvi... Se vogliamo parlare di 4chan, prima dobbiamo capire che cos'è. Andando sul sito appare una nota che spiega esattamente a cosa stiamo andando incontro. È una bacheca di immagini in cui chiunque può commentarle e condividerle. Il sito è suddiviso per categorie e argomenti e la cosa particolare è che le persone non devono per forza registrarsi per postare e commentare sulla piattaforma. Ciò garantisce l'anonimato a chiunque. E sappiamo cosa succede quando la gente è anonima sul web. Il sito, nato il 3 ottobre 2003, è creato da Christopher Pool. Inizialmente funzionava bene, anche con l'anonimato. Veniva utilizzato per parlare di anime e manga, in maniera tutto sommato tranquilla. Col passare degli anni, però, una serie di vicende hanno portato a quello che è ora. Hacker, razzisti, persone che creano fake news per divertimento, incel e anche killer. Vediamo quindi le volte in cui gente del genere ha stravolto il mondo e la reputazione di 4chan. E iniziamo proprio da un killer. Nel novembre del 2014, un utente anonimo scrive qualcosa di preoccupante sulla sezione dedicata alla condivisione delle foto intime delle ex ragazze. Già. Cito. Ho scoperto che se regolare a morte qualcuno è molto più difficile rispetto a quanto si vede nei film. A questa descrizione era legata una foto che ritraeva una donna nuda sul letto, molto pallida, con un evidente segno di singolamento sul collo. All'epoca, nessuno pensava che la foto ritresse un vero cadavere, visto che molta gente spesso scherzava su cose simili. Gli utenti hanno quindi iniziato a scrivergli che si trattava di un falso. E in risposta a questi commenti, lo stesso utente pubblica una seconda foto della stessa donna, ma vista da una diversa prospettiva. Questa volta, nella descrizione scrive... Ha lottato così tanto. Solo cinque minuti dopo pubblicò un'ulteriore foto seguita da una sorta di avvertimento. Cito di nuovo. Quasi tutto quello che aveva scritto è presto diventato realtà. Poche ore dopo il notiziario di Port Orchard riporta la notizia che una donna è stata trovata morta nel suo appartamento. Si trattava della trentenne Amber Lynn. Come scrisse, poi, fu il figlio di 13 anni a trovarla in quelle condizioni sul divano. Vicino a lei, il killer aveva posizionato la patente di guida della donna, con sopra scritto morta. Ma questa non è l'unica scritta che ha voluto lasciare. In una foto appesa al muro scrisse... Mi ha ucciso prima lei. Infine, nelle tende, venne trovata la scritta cattive notizie. Quindi l'assassino è stato anche sadico a far trovare il corpo della donna a suo figlio, che probabilmente rimarrà traumatizzato a vita. L'anonimo utente, che era riuscito a terrorizzare la community di 4chan, venne finalmente trovato dopo nemmeno 24 ore dall'omicidio. Si trattava del fidanzato di Amber Lynn, un uomo di 33 anni, di nome David Kalak. Da quel momento divenne conosciuto come il killer di 4chan. Venne finalmente condannato a 82 anni di prigione, dove si trova tuttora e dove probabilmente si troverà per il resto della sua vita. La prossima storia è molto simile, ma sicuramente più misteriosa e spaventosa. Per un semplice motivo. Ad oggi, nessuno conosce l'identità di questo criminale. Iniziò tutto il 21 agosto 2015, quando su 4chan venne creato un thread senza nome. Un utente anonimo scrisse di aver ucciso delle donne per piacere. A ciò, aggiunse anche una sorta di gioco malato, con le seguenti regole. Se indovinerete il nome di una delle vittime, metterò le loro foto. Non scrivete più di 10 nomi per post, o non verranno presi in considerazione. Alcune foto sono state fatte con una polaroid, altre con una fotocamera useggetta. Ho anche delle fotografie di loro in vita. Se indovinate tutti i loro nomi, vi dirò dove ho scaricato un cavere nel 1999. La prima foto è gratis, e dato che il nome è difficile da indovinare, ve la lascio qui. L'immagine caricata comprendeva due foto. In una, c'era una donna distesa sul letto in una pozza di sangue. Era datata 21 agosto 2005. Nell'altra, la stessa donna mentre era ancora in vita. Come nel primo caso, la community non si preoccupò subito. Gli utenti iniziarono a scrivere nomi per capire se fosse solo uno scherzo, oppure qualcosa di più macabro. Data la grande partecipazione, qualcuno indovinò subito uno dei nomi. Quindi l'autore del post originale aggiunse di aver sbagliato la data nelle foto precedenti, e la corregge con 21 agosto 2015. In allegato a ciò, un'altra orribile fotografia. Non ve le sto a descrivere ragazzi, perché uno, mostrano dei cadaveri, e due, se siete curiosi e assolutamente non impressionabili, le potete trovare facilmente su Google. Ma comunque ve lo sconsiglio. Tornando a noi, a quel punto alcune persone ancora credevano che si trattasse di uno scherzo, e gli chiesero come avesse fatto a far sviluppare quelle foto senza che qualcuno informasse la polizia. Mentre altre persone fecero il suo gioco. Solo 15 minuti dopo, viene pubblicata un'altra fotografia disgustosa. Si vede lo stesso cadaveri, questa volta in una scatola. E come descrizione, questa l'ho scattata prima che cominciassi a giocare con lei. Tutti gli utenti ora non credevano più che fosse uno scherzo. In pochi minuti l'utente aveva dato prova più volte che quelle fotografie erano reali, di cadaveri reali, e di ragazze probabilmente davvero uscise da lui. A prova di ciò, qualcuno aveva anche provato a cercare le stesse fotografie sul web, ma nessuna di queste era presente online. Quindi si trattava di foto originali, o qualche sorta di materiale esclusivo. A quel punto qualcuno commenta dicendo di aver avvisato l'FBI. Ma lo psicopatico autore del thread sembra non intimidirsi e pubblica una quarta fotografia. Si tratta della stessa donna della scatola, ma questa volta accompagnata da una sua foto, di quando ancora era in vita. Vicino ce n'era un'altra del suo viso bruciato, a tal punto da essere completamente nero. Ragazzi, è davvero disgustosa quella foto. Tutto questo casino è durato appena 20 minuti. Ok che parliamo di Forcham, ma anche lì cose del genere non sono tollerate. In soli 20 minuti, 4 foto di due presunti omicidi hanno scandalizzato gli utenti, e presto hanno iniziato a fare il giro del web. Quindi dopo solo 20 minuti il thread era stato cancellato per sempre. Ma nonostante questo, il 22 settembre 2015, l'autore crea un nuovo thread, nel quale però non continua più il gioco iniziale. Scrisse semplicemente le parole dying, dying, ovvero morendo. Allegato a ciò, una foto di una nuova vittima. Questa volta un uomo, con gli occhi coperti da un nastro. Poi, un'altra foto ancora, con soltanto la scritta dead. Solo 3 minuti più tardi, pubblica una terza immagine, molto diversa dal solito. Nella foto vi è un uomo con un passamontagna rosso, che punta un'arma alla videocamera. Questa volta però, visto che sapeva che a breve i suoi post sarebbero stati eliminati, aggiunse una descrizione a quella foto. Tornerò tra un mese esatto per finire il nostro gioco. Se non sarà passato questo esatto lasso di tempo, e uscirà comunque un mio post, non sarò io. Questo fu l'ultima volta che sappiamo con certezza che l'autore originale pubblicò. Come accade spesso su internet in questi casi, le persone si improvvisano investigatori. E direi che è decisamente un bene, perché qualcuno, facendo una ricerca inversa tramite la prima foto, è riuscito a risalire all'identità di una vittima. Si trattava di Shona Maynard, una ragazza uccisa a soli 17 anni. A questo punto le teorie più probabili sono due. La prima si basa sul fatto che le foto erano tutte originali, e non era stato possibile trovarle online. Quindi saremmo effettivamente davanti a un serial killer sconosciuto, che aveva scattato quelle foto in prima persona. La seconda invece ipotizza che si trattasse di foto provenienti da archivi della polizia. Ma una grande falla in questa teoria è che le foto scattate sono molto amatoriali, buie e strane. Mentre quelle della polizia, solitamente, vengono fatte da una certa prospettiva e con una certa illuminazione. Di sicuro non si mettono a fotografare le parti intime in primo piano come aveva fatto lui, ecco. Ovviamente, venne anche contattata più volte l'FBI per indagare su questo mistero. Ma non trappelarono mai notizie ufficiali. E a questo punto, forse, non le avremo mai. Secondo me, però, se si fosse trattato di un vero assassino psicopatico, le forze dell'ordine ci avrebbero fatto sapere qualcosa. Questo è solo ciò che penso io, ovvero che in qualche modo fosse tutta una sorta di scherzo malato. Resta però la domanda su come abbia fatto quella persona a procurarsi quelle foto. Quindi, sono proprio curioso di sapere la vostra riguardo a questo caso. Il terzo caso non riguarda dei post pubblicati come nelle storie precedenti. Ma è comunque strettamente legato a 4chan. Ruben Brett White. Un ragazzo che frequentava molto spesso il sito per guardare materiale esplicito e spesso disturbante. Come per esempio, era affascinato a tal punto da quelle cose da passare giornate intere a guardare questo tipo di contenuti. Questo lo ha portato ad essere totalmente desensibilizzato verso ogni genere di violenza. E a non provare più nulla. Ruben era stato adottato all'età di 12 anni. E la sua matrigna, Fiona Scarfield, disse che vedeva del potenziale in lui. Che era un ragazzo molto intelligente e buono. Soltanto 5 anni più tardi però, durante una giornata normalissima, Ruben, con la scusa che nel cortile di casa ci fosse un gattino ferito, chiama sua madre e la tira fuori di casa. A quel punto la uccide con un colpo di ascia nella schiena, proprio sulla porta d'entrata. Ma non finisce qui. Una volta a terra, Ruben prese una spada da samurai che il padre adottivo teneva sotto il letto per collezione. Si diresse verso il corpo della madre e cominciò a... senza riuscire però a staccare completamente la testa dal corpo. La cosa macabra è che aspettò che sua madre si distanguasse completamente prima di avvisare lui stesso la polizia. Lui per tutto il tempo rimase lì ad osservarla e a scattarle delle foto. E qui entra in gioco 4chan. Purtroppo, per fortuna infatti, tentò anche di caricarle su 4chan. Ma il suo account era stato bannato in precedenza. Quindi non riuscì mai a caricarle. Fu quindi condannato a 15 anni di prigione. In una testimonianza disse ad un poliziotto che era convinto di quello che aveva fatto. E la motivazione era semplicemente quella di voler provare qualcosa di nuovo. L'ultimo caso di oggi è sicuramente il più conosciuto. Sto parlando della tragica fine di Bianca Davis. Prima di parlarvi di ciò che è successo però, dobbiamo capire chi era. Bianca era un adolescente di 17 anni. Viveva a Utica, un comune di New York. Soffriva da ansia e questo la limitava nel fare nuove conoscenze di persona. Così si trovava spesso su 4chan e Discord per cercare persone con cui fare amicizia. Essendo 4chan prevalentemente frequentato da un'utenza maschile ed essendo lei una ragazza carina con uno stile alternativo, cominciò ad avere molti Orbitors. Gli Orbitors sono ragazzi che occupano la maggior parte del loro tempo online cercando di portare a letto una ragazza o avere una relazione con loro. Uno di questi era Brandon Clark, un ragazzo di 21 anni. Lui accettava con Bianca ormai da diversi anni ed erano diventati amici. Un giorno la invitò ad andare a un concerto insieme e lei accettò. Così il 14 giugno 2019 Brandon si presentò a casa di Bianca e conobbe anche la madre, che in seguito dichiarò sembrava un bravo ragazzo. Quindi andarono a quel concerto dove Bianca riconobbe un altro ragazzo che aveva conosciuto sempre online di nome Alex. In seguito si scoprirà che era stata lei stessa ad invitare Alex. Bianca sembrava più interessata al ragazzo incontrato per caso che a Brandon. E ad un certo punto della serata, Brandon andò a prendere una cosa che aveva dimenticato in macchina. A quanto pare, però, al suo ritorno vide i due baciarsi. Il suo amore a questo punto cambiò totalmente. La mattina del giorno successivo, in un server su Discord e su Instagram, pubblicò la foto di una ragazza distesa a terra, gravemente ferita al collo, e scrisse Scusate, sfigati, dovrete trovare qualcun'altra a cui andare dietro. Le persone si preoccuparono subito, ma non capivano se fosse davvero Bianca o un'immagine presa da internet. Cercando sul web, però, nessuno trovò nulla. Era una foto nuova, inedita. E a quel punto qualche utente gli chiese dove fosse. E lui rispose subito con un commento delirante. Cito Nella mia fottuta macchina, iscrivetevi a PewDiePie e al ragazzo di nome Alex con l'username cinese, spero ne sia valsa la pena, sarebbe tornata a casa oggi. Queste sono le cose che ha scritto. Mise anche delle storie su Instagram che non posso farvi vedere, quindi vi mostrerò soltanto i messaggi che c'erano scritti sopra. Mi dispiace, Bianca. Ecco che arriva all'inferno. La sua redenzione. Giusto. Grazie a tutti quelli che sono stati buoni con me. Mi mancherete tutti. Cenere. Alla cenere. Fu lui stesso poi a chiamare la polizia. Quando la polizia arrivò, trovò il corpo di Bianca sotto ad un telo. E Brandon, in fin di vita, con un enorme taglio qui, sopravvisse e il 23 luglio 2019 venne condannato a 25 anni di prigione. Ma la storia non finisce qui. Le immagini con lo scoppio mediatico del caso cominciarono a circolare ovunque. Alcuni utenti su 4chan iniziarono a definire Brandon come un eroe. Ma che... Alcuni dicevano che Bianca usasse la sua popolarità per manipolare i ragazzi. O meglio, i suoi orbitors. Per ottenere delle cose in cambio. Come prova di questa teoria uscirono degli screenshot pubblicati da alcuni utenti. In questi screenshot, apparentemente, l'account di Bianca ammetteva di usare e di ferire le persone. E diceva anche che non le importasse assolutamente nulla. La madre di Bianca, però, sentendo queste notizie, disse che non era stata lei a scrivere quelle cose. E che secondo lei, essendo Bianca conosciuta, qualcuno avrebbe creato dei profili falsi fingendosi lei. In qualsiasi caso, Bianca non si meritava a quella fine. Ma, per farvi capire fino a che punto può essere malata una community, la famiglia ha dichiarato che, ancora oggi, ricevono le foto del corpo senza vita di Bianca da utenti anonimi. Ho solo due parole. Che schifo. Due parole che riassumono alla perfezione le cose di cui abbiamo parlato oggi. 4chan è stato davvero il luogo che ha ospitato le menti più perverse e malate di questo secolo. E sinceramente sono rimasto scioccato quando ho scoperto tutta la roba che è accaduta lì. Ma comunque, questo è tutto. Come al solito, fatemi sapere se conoscevate queste vicende e soprattutto se il video vi è piaciuto. Come sempre, vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!